Vuoi eliminare anche tu le rughe dal viso? Ecco qui una maschera che funzionerà in sole pochissime applicazioni. Questa ricetta è richiesta da Antonia, a cui mando un bacio e che saluto. Se vuoi anche tu la ricetta personalizzata, iscriviti al canale, metti un bel like, attivare le notifiche e lasciami un commentino qui sotto con la tua richiesta. Risponderò e ti citerò nel prossimo video. E incominciamo subito. Per questa maschera servono pochi ingredienti che abbiamo tutti, tutti in casa. Per prima cosa mettiamo 6 cucchiai di farina, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi aggiungiamo 6 cucchiai di olio, scusate non di cucchiai grandi, quindi ne andiamo a mettere 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, andiamo a mettere 6 cucchiai di miele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ora 4 cucchiai di acqua di rose. 1, 2, 3, 4. Perfetto, ora applicatelo sul viso lasciandolo 20 minuti e poi sciacquate, ripetetelo anche tutti i giorni. E sono super curiosa di sapere cosa ne pensate e che risultati avrete sul viso, perché so che saranno risultati meravigliosi e avrete un viso rinato, che sembrerà davvero ringiovanito da quanto al beneficio. L'olio d'oliva insieme al miele insieme all'acqua di rose. Provate e fatemelo sapere perché sono super curiosa. Un bacio!